Musica Regole chiare e trasparenza anche a beneficio dei pazienti. Gli odontotecnici, veri e propri artigiani della sanità, fanno un appello alla politica e agli organi preposti ai controlli per avere leggi che diano dignità al lavoro della categoria e un perimetro certo all'interno del quale definire l'ambito di attività. Un'attività che a tutt'oggi viene principalmente disciplinata da norme risalenti agli anni venti del secolo scorso, che la definiscono arti ausiliare alle professioni sanitarie. Anche la successiva legge Lorenzina non è stata sufficientemente incisiva nel distinguere i ruoli di odontotecnici o odontoiatri. La normativa dice che l'odontotecnico è la persona predisposta a costruire la protesi e a metterla in commercio, mentre l'odontoiatra, che è l'operatore sanitario, è l'addetto che la deve prendere e mettere in esercizio. Queste due parole che sembrano così non significanti per noi sono molto significanti, cioè noi produttori di protesi, cioè l'odontotecnico, vendiamo e mettiamo in commercio il nostro prodotto in base alle richieste sia del paziente, economiche ma non soltanto anche fisiche, proprio di utenza di richiesta. E per quanto riguarda l'odontoiatra invece poi la prende, controlla che sia fatto il lavoro a regola d'arte e lo immette nel cavo orale. Quindi questa è la differenza sostanziale tra le due professioni. Diciamo che sostanzialmente la produzione dei denti, ma come succede in altri campi di altre professioni, viene un po' travisata perché non c'è un netto controllo su questo flusso. Quindi ci sono alcune strutture, di cui alcune non hanno neanche l'odontotecnico all'interno della struttura, dove producono i denti tramite dei blocchetti di ceramica fatti dal commercio e li trasformano in denti definitivi. Una volta trasformati questi denti sono sostanzialmente protesi su misura e quindi devono essere poi dopo collocate all'interno del cavo orale come protesi su misura. Questa trasformazione non si può fare se non c'è un odontotecnico. Gli odontotecnici chiedono dunque un'operazione trasparenza, adempiendo alle prescrizioni della normativa europea per quanto riguarda valutazione di conformità e tracciabilità dei dispositivi e garantendo l'emissione di fatture separate o con differenziazione dei costi tra importo della protesi dentale e costo della prestazione medica corrisposta. Noi chiediamo che il cittadino sia a conoscenza di ciò che compra e di ciò che viene messo in bocca, prima per la sua salute primaria, perché l'attenzione deve essere sulla salute del paziente in generale, ma poi anche per un fattore di trasparenza, conoscere il produttore che l'ha fatto, quali sono stati i materiali utilizzati, i lotti, cioè tutto ciò che richiede la normativa, la 745-2017, è essenziale secondo noi per il paziente. Anche basta pensare che oggi se noi andiamo a comprare ma qualsiasi tipo anche di alimento che sostanzialmente interessa anche la salute del paziente, deve essere specificato qual è il lotto di provenienza e dove deriva l'alimento. Quindi non vedo perché questa cosa che interessa la salute del paziente, che è al centro, il paziente non ha quasi mai la documentazione che noi stiamo parlando in questione. La categoria organizzerà presto un evento di respiro regionale in cui tutti i soggetti coinvolti sono chiamati a rispondere alle domande degli odontotecnici. Sostanzialmente noi siamo in sanità, quindi chiediamo chiarezza per quanto riguarda il decreto regio che noi siamo vincolati ormai da tantissimi anni e non riusciamo a capire come mai non si interviene nel decreto regio. Siamo fra l'altro l'ultima categoria presente nel decreto regio a non essere normata, ma sostanzialmente dobbiamo chiedere agli organi di controllo che ci diano una mano per capire se la 745 2017 più la legge Lorenzin vengano normate per la figura dell'odontotecnico. Grazie per la visione!